Mi sono stancato da vivere in mezzo ai fantasmi. Questi alibi chi sono? Per la persona non c'è più. Ma guarda che avete tante riporte morti indietro. A me va più di prendere ordine. È ora che sta città passa di mano. Infatti sono entrato in polizia per rifarmi la vita. Lo sto più al servizio tuo. Che cosa ti ha fatto pensare di poter decidere? E ora sempre io decido che è l'ora di metterci un altro fantoccio al posto tuo. Prima il problema erano i miei padri, i tuoi padri, il mio fratello. Ma non ci stanno più, il problema ce l'avevamo stessi. La politica la controlliamo noi. C'è chi cade e c'è chi prende il suo posto. Le cose cambiano prima e poi. Noi torniamo per comandare. Noi si dobbiamo rimettere insieme. Noi tre contro tutti. Te donna. Mi dobbiamo. Ci siamo messi contro gente potente. Cosa è Vielen compared to. Cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Grazie a tutti